E come si fa a trovare il meccanico qui? Eccomi a cercare una che non bagliavi. Sei lì. Senta, ci sarebbe un problemino. È successo un incidente, una cosa grave. Per cortesia, sto vedendo il film. Se posso permettermi. E il meccanico non vuole perché tra l'altro... È un Garpelli. Chi? È un film di Garpelli, neorealista. Lo proiettano da 30 anni. Ci sarà il suo motivo, dai, andiamo. Non possiamo perderlo, mi prego. Come non possiamo perderlo? Scusa. Ma, Giacomo, è un Garpelli, Giovanni. Ma dai, ma... Aldo, vado a prendere il popcorn. Ma dai. Grazie, per favore. Biglietti. Grazie. Biglietti. Senta. Biglietti, scusi. Senta. Ti faccio vedere il biglietto, se ce l'ha. Se non ce l'ho perso. Se l'ha perso, le farò la contravenzione, va bene? Ho capito per quale motivo devi mettere le mani avanti. Che metto le mani avanti. Ho detto, se non ce l'ha, le farò, futuro, ce lo ritroverò, anteriore. Senta, non faccia lo spiritoso. Cerchi sto biglietto. Se ce l'ha, la chiudiamo. C'è l'opera. C'è l'opera. Con la sigaretta. No, grazie. Guardi che non è per corromperla. Ci mancherebbe che vuole corrompermi con una sigaretta. Vuole il pacchetto? Senta, per favore, non faccia lo spiritoso. Me lo faccia saltare qua. Cos'è successo qua? Eh, non ha il biglietto. Ahia, e di una bella multina. Senta, ci penso io, non si preoccupi. Questa è una bella multa. Non si preoccupi, grazie. Questo è il mio mestiere. Per quale motivo. Allora? Sai che gli occhiali ti stanno benissimo. Questi, proprio belli. Grazie. Per favore. Questa, ragazze, è questa. 20 minuti per farlo saltar fuori? E lei che doveva fare? Devo andare una festa. Comunque, questo biglietto è pluritimbrato. Come? Questo biglietto è stato timbrato più volte. E si vede che l'ho pagato di più. Senta, non dica stupidati e venga qua. Mi spiace, le faccio una contravenzione e la prendiamo. No, questo biglietto me lo ha venduto il suo collega. Ma non dica stupidati, i colleghi non faremo. Poi, se lei è ignorante, non è colpa di nessuno. Va bene? L'ignorante io lo dico a sua sorella, va bene. Ignorante nel senso che ignora che quello è un biglietto simbile. Allora, lei è un imbecille nel senso che imbelle. La dobbiamo sentire. Se ne è cercata. Allora, facciamo i testimoni. Andiamo giù e lo controlliamo. Allora, non facciamo niente. Per favore, non contiamo niente. Venga come, venga come. Scendiamo, scendiamo e lo controlliamo. Su le mani non ti cogliere. Ma lasciala andare, ma che ti costa? Mamma, quanto odioso, proprio. Bastardo dentro. Ma bastardo che cosa? Allora fomentiamo la delinquenza, eh? Le regole buttiamole nel cesso? Eh, ma però ci si accanisce. Ho capito. Che poi? Se lui non gli fa questa cosa qui, perché? Aspettere! No... Ho capito. Aspettere! Oh, ma basta! Aspettere! Aspettere! O